Il Presidente ha rivelato ai suoi confidenti Il Presidente ha rivelato ai suoi confidenti che al momento vede questo dibattito come un'occasione per mostrare all'America quello che lui definisce il vero Biden, che lui, il vero Biden, nell'opinione del Presidente ha perso parecchi punti e non è all'altezza del lavoro. Ci aspettiamo attacchi personali e potenzialmente feroci alla famiglia Biden e in particolare al figlio del candidato, Hunter Biden, potenzialmente implicato in affari loschi con l'Ucraina o la Cina, dei quali non esistono prove. Credo che se Trump attaccherà direttamente Biden, in particolare in maniera personale, sarà difficile per Biden parare i colpi e rispondere a tono, ma la sua missione dichiarata è quella di rafforzare la convinzione di coloro i quali hanno già deciso che assolutamente non voteranno per Trump, ma non sono neanche convinti di consegnare le chiavi della Casa Bianca a Biden. Il dibattito, che inizierà alle 21 locali, le 3 in Italia, durerà 90 minuti e sarà moderato da Chris Wallace, giornalista di Fox News, scomodo a entrambi i candidati, per ragioni diverse.